Aveva deciso di partecipare ad un'asta giudiziaria per l'acquisto di una villetta ma era entrata in un incubo. Gli ex proprietari, infatti, padre e figlio, avevano iniziato a minacciarla sempre più pesantemente per riavere il bene che la donna si era giudicata. Protagonista della vicenda, una vedova che insieme al figlio aveva deciso di partecipare ad un'asta per una villetta incontrata a Fraginesi nella zona di Scopello, Castellammare del Golfo. Alla fine la donna ha deciso di denunciare tutto. I carabinieri della compagnia di Alcamo e della stazione di Castellammare hanno arrestato per i reati di estorsione e turbata libertà degli incanti gli ex proprietari dell'immobile, due uomini, padre e figlio, originari di Balestrate, Giuseppe Pace di 67 anni e il figlio 42enne Costantino. La donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine dopo una lunga serie di minacce, dopo il ritrovamento nei pressi della sua abitazione di otto cartucce per fucile da caccia. È stata così disposta alla sorveglianza dell'abitazione della donna e sono iniziate le indagini nei confronti degli ex proprietari della villetta. Secondo la documentazione raccolta, Costantino Pace, sempre in raccordo con il padre, avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell'organizzazione delle minacce e stava pianificando, insieme ad altre persone oggetto adesso di indagine, anche un attentato nei confronti del figlio 35enne della donna per costringerla definitivamente a rinunciare all'offerta per l'acquisto della casa. La procura di Trapani ha disposto per i due Costantino l'immediato trasferimento in carcere. La donna potrà godersi, se lo vorrà, l'acquisto di questa villetta.